Altro giro, altra esclusione per Emre Can. Cari amici, si pensava che ieri in un test tutto forché probante, in Coppa Italia, negli Ottavi, in casa contro l'Udinese, il tedesco potesse ottenere una maglia titolare. Finora con Sarri è partito solamente due volte all'inizio in campionato e tra l'altro con risultati piuttosto scadenti. Però niente, ieri abbiamo capito proprio come Sarri non vede Emre Can, come piuttosto decida punti adattati. Vedi Bernardeschi comunque contro l'Udinese ha fatto una bella partita, nel ruolo di mezzo destro in piena emergenza, quindi con fuori che dire Bentancur, Sarri ha puntato su Rabiot. Insomma, non c'è spazio per Emre Can. Ora però la Juve deve fare una riflessione, una riflessione importante perché Emre Can è vero che è arrivata la Juventus con missioni a parte da parametro a zero, però è un giocatore che se venduto bene può portare una plusvalenza. Chiaro che non dare nemmeno per scontato che qualora dovesse rimanere mi stupirebbe molto, entrerebbe automaticamente in lista Champions, anzi, dal momento che l'ultima opzione, anche dopo gli adattati per il centrocampo, sarebbe sicuramente una scelta anacronistica. Vedremo cosa accadrà in queste settimane rimanenti della sessione invernale. Offerte ufficiali non ne sono mai arrivate, qualche sondaggio del Paris Saint Germain, un'idea di scambio a dicembre con Paredes, poi una offragata perché Paredes è diventato un giocatore sempre più centrale per gli schemi di Tuchel. E quindi adesso Emre Can è chiamato a prendere una decisione per ritrovare autostima, per non perdere terreno in vista anche degli europei. Quindi, chiaro che Emre Can è un giocatore importante, non dobbiamo dimenticare come la Juventus, prima di prenderlo, lo abbia corteggiato per un anno intero, quando si pensava che potesse tornare al Bayern Monaco, quando c'erano stati i sondaggi del Paris Saint Germain e dell'Al Madrid. Infatti, quando la Juve ha piazzato una clausola recessoria che entrerà in vigore a partire da Giulio su Emre Can, a partire da 50 milioni, i tifosi erano rimasti un pochino delusi, perché dicono che è una soluzione di ripiego per lui la Juve. Magari adesso, col seno di poi, arrivasse qualcuno con questa cifra. Sicuramente andrà via a prezzi inferiori, vediamo in quale modalità, vediamo se già in questa sessione, però mi sembra che questa sia l'unica traccia da monitorare per una squadra che in entrata non farà niente. In difesa non sostituirà Demiral perché c'è Rugani, perché poi, secondo tabella, a marzo rientrerà Chiellini e quindi centrocampo, anche qualora dovesse a partire da Emre Can, c'è Bernardeschi adattabile, Rabiot ha imparato a fare il mezzo destro anche con discreti risultati. E quindi ragazzi, adesso sicuramente ci sarà un confronto tra l'entourage di Emre Can, che non ha preso bene questa esclusione, l'ennesima da una partita, con la dirigenza ovviamente bianconera, e quindi credo che Emre Can possa diventare a tutti gli effetti un'occasione importante e significativa di lusso. Grazie a tutti.